Ventilatore, aria condizionato accesa, stanotte è stato tremendo. Arriva il caldo e questi primi giorni infuocati mettono a dura prova chi è costretto ad uscire, ma anche chi sta a casa. Vento le condizionatori accesi, ci si difende come si può, anche se previsioni alla mano, quella del 2018 non è e non sarà tra le stati più calde. Temperature nella media stagionale per il momento non appaiono all'orizzonte né Caronte né Lucifero, ovvero le grandi ondate di calore che si sono abbattute l'anno scorso nei mesi di luglio e agosto. Come vedete il gran caldo attualmente si mantiene sull'Africa, da noi abbiamo una condizione abbastanza gradevole dal punto di vista termico e anche nei prossimi giorni, si va avanti a sabato o domenica, le condizioni non cambieranno di molto, lo vedete il caldo si sposterà probabilmente un po' sulla penisola iberica, da noi rimarranno temperature in linea con le medie, quindi con le massime intorno a 32 gradi sulle zone interne. Andando avanti, anche il resto della parte di luglio non sembra, attualmente non si prevedono ondate di calore particolarmente significative. Lei lo soffre il caldo? Poca miseria se lo soffro. Quel caldo dà noia in particolare ad anziani ma anche ai bambini piccoli? Sì, infatti è noiosissima, è sempre uggiosa, piange, è troppo caldo. Come sempre sono le farmacie i primi avamposti delle esigenze sanitarie del territorio ad offrire i primi rimedi contro il calore che causa abbassamenti di pressione improvvisi. Nell'ultima settimana c'è stata una notevole richiesta di misurazione di pressione, di clienti che avevano giramenti di testa senza dispostatezza e cosa. Quindi le misurazioni delle pressioni hanno registrato una diminuzione specialmente in particolare dei valori della massima che erano tutti stabiliti sui 100-110. Nessuna previsione invece per settembre e ottobre. Il Lamma avverte che qualsiasi notizia circolante sul web riguardo ad un autunno caldo, almeno dal punto di vista meteorologico, attiene all'ambito della fantascienza e non della scienza. Io sto bene, però mia moglie dice che ha fatto caldo ieri sera. A lei non le dà noia insomma? A me non me la noia, io sto a posto, vedi io sto proprio nella bellezza proprio.